Chiara! Chiara, benedetta del cuore! Ieri, aspettavo l'accordatore e mi ha pensato il piano poster e ti ha scordato di passare! Che peccato! Così non puoi trovare! No! Chi sei vicini che con te hai? Chiara, chiara, benedetta del cuore! Senti, non ti ho detto che cosa ho visto fare l'altro giorno al mio cane, no! L'ho sentito inaugolare! Davvero? Certo! Si era postato per catturare un gatto, ma per riuscire meglio in giro, ha iniziato a inaugolare! E l'ha catturato! Ma certo! Ma è proprio vero che al giorno noti se non sei almeno delingue non sarei messata! Quindi lo sento da fare il mio cane! Il mio cane ci porti il giornale e tutte le macchine! Ma è che è mio! Ma voi la vola messo al giornale? Certo! I miei no! Ma i miei dici, sì! Invece il mio cane è avvistrato talmente bene che ha imparato a dire il suo nome! Come si chiama? Cara! Cara, non devi chiedere il cuore! Ah, stendi! Vieni, ho incontrato per provare il cucinino! Ma l'ho già visto! Sì, me la sei! Ah! Cara, non devi chiedere il cuore! Ah! Bye!